Salve a tutti Xnerd, sono Eddie Locke e al mio fianco c'è il Fido Nightcrawler di quartiere. Ciao a tutti. Siamo qui oggi, come vedete, naturalissimi. Abbiamo preso la pioggia e c'è stato un blackout, quindi temevamo di non poter fare la recensione. Abbiamo preso una sala piena di imbecilli, abbiamo fatto anche la sauna, perché c'era un caldo incredibile. Però stavo aspettando il mio massaggiatore che non è arrivato. Esatto, e soprattutto siamo stati all'interno della maratona, quindi abbiamo fatto veramente tante ore al buio, quindi se ci vedete tipo delle talpette, per questa motivazione. Allora, anche l'articolazione strana dei discorsi ragazzi sono le 4, per farvi capire a che ora stiamo recensendo. Sì, sì, era giusto. È giusto, ho usato un verbo corretto, meno male. Hai usato il verbo corregiuto. Corregiuto, sì. Allora, partiamo dal presupposto che faremo una prima parte no spoiler e poi spoiler, ma tranquilli ve lo segnaliamo. Quindi, assolutamente, adesso parliamo no spoiler e partiamo con la gadgettistica. Prima vi faccio vedere questi, che sono i menu che davano al The Space. Noi, come vi posso far vedere così, abbiamo preso solo quello di Thanos. In realtà ce n'erano anche degli altri, ma sinceramente... Brutti, brutti, brutti. C'è dato un occhio prima. Sì, le donne sembravano... Uomini. Sì. E quindi abbiamo lasciato perdere, abbiamo preso solo quello di Thanos, giusto per farvi vedere come sono fatti. E poi quello di Thanos non è neanche male. E grazie a amici vari... Ha un po' lo sguardo annoiato. Grazie a amici vari, abbiamo tutti i gadget che hanno dato in sala. Qui noi abbiamo avuto i nostri, poi i nostri amici ci hanno portato i loro. E quindi vi faccio vedere il poster che hanno dato in una delle sale. Che secondo me pareva proprio personalissimo, è orrendo. Secondo me la color correction stracchiara... Ma anche l'averlo fatto orizzontale, secondo me, non premia la cosa. Non dico niente, però vi facciamo vedere tutti i gadget. Poi c'era questa qua, che era quella che vi faceva vedere lui, che è la moneta canonica. Che comunque adesso non so se vi inquadra, ma in ogni caso lo potrete vedere su GE-LadyLoki93 Instagram, il nostro Instagram. E la seconda moneta, che invece era dorata, e ha i personaggi sul retro. Comunque piccolo disclaimer, visto che tanto me lo diranno, con questa maglietta io non incito il gioco d'azzardo. Sì, non si sa mai. Un regalo di compie anno che mi ha fatto Giulia. E a questo proposito voglio dire, in prevenzione, visto come è andata la scorsa recensione, cioè quella di Infinity War, che è andata benissimo a livello di visual e commenti, per me è che ci sono stati veramente tanti hater. Perché ovviamente quando le cose vanno bene ci sono tante persone che supportano e vogliono dialogare e tanti che attaccano. Quindi lo dico preventivamente, banneremo e cancelleremo tutti i messaggi maleducati. Quindi non vi sprecate se volete insultare o robe del genere, perché cancelliamo e banniamo. Quindi risparmiate la digitata. Esatto. Non consumate i tasti della tastiera, non consumate l'edito, non consumate l'icoglio. Anche perché qui siamo solo per il dialogo. Quindi parliamo tranquillamente nei commenti. Cercate di limitare gli spoiler, perché c'è sempre qualcuno che non ha visto che va nei commenti. E sì, non è il massimo. Esatto. Allora, partiamo con la parte no spoiler. C'è da dire una cosa. Io e lui ovviamente abbiamo già parlato prima di fare questa recensione e io mi farò portavoce della parte no spoiler perché c'è veramente poco da dire. C'è da tenere presente uno che questa è una fine. Ok, c'è l'altro Spider-Man che concluderà la fase, però effettivamente questa è una fine. E cosa significa questo? Che porta dentro di sé tutta una serie di difficoltà che sono poi insite nelle fini. Cioè, gli inizi possono essere anche, se volete, più poetici, più liberi, perché comunque è la prima parte, ma nella fine devono legarsi tanti fili insieme e concludersi. Quindi è chiaro che ci sono delle difficoltà all'interno del film, ma che è bellissimo. Noi siamo stracontenti di averlo visto e a noi è piaciuto. Però vi chiediamo di andarlo a vedere senza per forza cercare di dare un senso a ogni singolo dettaglio. Perché secondo noi è deleterio, nel senso che se proprio non quadra al millesimo e c'è da fare un arrotondamento per eccesso o per difetto, fatelo. Facciamolo e teniamoci l'animo leggero. Esatto, perché comunque questo doveva essere una conclusione che, secondo il nostro parere, è stata fatta anche molto bene, alla luce di quanto doveva essere articolata, alla luce di quante cose si sarebbero dovute vedere all'interno di questo film. Quindi secondo noi è assolutamente riuscito, va visto assolutamente al cinema per tutta una serie di effetti speciali e soprattutto per la parte finale. Secondo noi è fondamentale vederlo al cinema. Noi siamo stati contenti di averlo visto con la maratona perché abbiamo evitato gli spoiler. Voi sapete che era già una parte online e ci sono stati nostri amici che sono caduti con gli spoiler. Io no. Poveri. Noi no. Infatti quando eravamo in sala vi hanno detto siamo riusciti a evitare anche stavolta gli spoiler incredibile. Quindi assolutamente giudizio positivo, andatelo a vedere e quando avete visto ci rivediamo per la parte spoiler e magari parliamo insieme un po' delle parti che ci hanno più colpito perché appunto essendo questa una fine non ci va né di essere troppo critici né di infierire su dettagli che magari ci sembrano discordanti. Ci va di fare un discorso a tutto tondo. E proprio alla luce del fatto che questa è una fine secondo noi l'animo che dovete avere in sala è un animo lieto nel senso che non deve essere un cercare assolutamente maniacalmente di trovare conferma o trovare il pelo nell'uovo all'interno di determinate scene. Secondo noi è fondamentale andarlo a vedere come si è visto forse il primo Avenger cioè con occhi di meraviglia e con anche se volete un po' di nostalgia perché effettivamente una fase sta andando a concludersi. Non voglio dire che è conclusa perché voi mi direste ma Spider... Ok sì probabilmente cioè io ho letto almeno che Spider-Man Far From Home sarà effettivamente la chiusura di questa fase però vi dico questa per noi è una fine a tutti gli effetti. Quindi parte no spoiler finita anche perché purtroppo c'è talmente... C'è poco da dire no spoiler. Perché ci sono talmente tante cose che bisogna entrare per forza nella parte spoiler per riuscire a dire qualcosa quindi al di là di dirvi come andare in sala visto che è quello che vi interessa fondamentalmente preferiamo adesso dilungarci nella parte spoiler che comunque vi ripeto tratterà solo secondo noi i nostri punti di vista la conclusione di questa fase dal nostro punto di vista e così via. quindi da adesso in poi spoiler se non volete spoiler scappate. Ciao ci si rivede. Allora io voglio dire questo parto intanto dal personaggio di Thor allora io devo dire questo a me non ha infastidito sia chiaro nel senso... a me non ha infastidito il fatto che sia comico nel senso abbiamo già visto questa piega del personaggio quindi ci poteva stare non è quello fondamentalmente io penso che nonostante quella parte di torta sia... quella bella fitta sia comunque stata carina sul grande schermo e forse abbia spezzato la drammaticità forse lo spezzare la drammaticità in un film come questo l'avrei lasciato per altre cose anche perché abbiamo perso l'effettiva opportunità di vedere un personaggio che è veramente in lutto per quello che gli è successo perché vi ricordo che in Infinity lui dice praticamente mi sono morti questi questi però io non vedo l'ora di combattere qua vediamo... Sì tutto il contrario mi sono morti questo e questo e questo datemi una birra e dei nachos Sì cioè nel senso anche New Asgard io avrei preferito vedere Asgardia piuttosto come riferimento mi sarebbe piaciuto ma sono proprio sottigliezze nel senso io parto con questo perché Thor salta gli occhi già da subito interessanti sono stati in realtà molti risvolti della trama e dei personaggi per esempio colpisce la vedova che secondo me già all'inizio quando dice io non ho nient'altro che questo già capite cosa succederà nel momento in cui va verso la gemma dell'anima perché è chiaro che Jeremy Renner quindi Clint Barton non poteva morire con una famiglia all'attivo cioè secondo me questo film dava proprio l'idea di voler chiudere un cerchio e Clint aveva un po' troppe cose in sospeso per essere sacrificato quindi diciamo... anche se era diventato un macellaio dei più beceri mi dispiace che questa parte non sia stata approfondita più di tanto però vi ripeto che per quanto io su alcune cose della trama non sia d'accordo c'è da dire che doveva chiudersi talmente tanti discorsi all'interno di questo film che è davvero incredibile il fatto che sia effettivamente stato possibile una cosa del genere cioè che tutto o fondamentalmente le cose più importanti si siano chiuse e quindi noi siamo riusciti effettivamente a avere una conclusione degna il finale per me è stato incredibile veramente fortissimo le morti e i personaggi che non ci saranno più sono stati rappresentati in maniera molto forte io per esempio nel lutto finale nel funerale finale mi è scappata nella cremina e io dico sempre di non avere un cuore ma quanto pare è la prova che Loki ha un cuore ogni tanto ne ha uno quindi sì e diciamo che anche Cap mi ha fatto un po' effetto e c'è da considerare questa cosa ne parlavamo prima io e te ci sono due Cap secondo noi effettivamente cioè quello che è negli Avengers e poi quello che torna indietro e vive con Peggy perché quello che noi vediamo come la vita di Peggy in realtà sarebbe il futuro dello Steve che è negli Avengers praticamente lui non ha mai non è mai finito dentro il polo Nord credo se mi ricordo bene no secondo me ha fatto tutto e a un certo punto ci sono proprio due Steve quello canonico che ha negli Avengers e poi quell'altro che è il futuro praticamente lui torna indietro e ne convivono due diversi ok perché però uno vive la vita che l'altro non ha vissuto perché comunque conosce la Peggy da vecchia sì e che in realtà è lo stesso solo che uno è il futuro e uno è il passato esatto quindi comunque sono sempre due diciamo che ci sono tutta una serie di spiegazioni che in realtà forse vogliamo darci nel senso che qualcuno si era messo lì in sala a valutare cosa a fare gli schemi non credo che sia questo lo spirito per affrontare un film di questo genere che davvero era complesso allora già il fatto che Thanos venga ucciso subito beh io ci sono rimasto discretamente male perché non me l'aspettavo anche perché dici hanno interessante comunque hanno eliminato una cosa fondamentale quindi vuol dire che la trama da adesso in avanti si complicherà tanto se hanno dovuto togliere e in effetti poi vediamo un altro Thanos e la battaglia finale è bellissima molto d'effetto e quindi sì ok diciamo che io ho patito di quelle tre ore di film io volevo anche dire questa cosa sui social io ho detto per me tre ore di film sono troppe io non mi rimangio questa cosa nel senso io considero che tre ore di film non vadano bene mai però io capisco e quindi vi dico nonostante io comunque ritenga che per me tre ore di film sono assurde capisco assolutamente perché hanno voluto fare tre ore di film perché c'era talmente tanta carne al fuoco che non avrebbero non te la potevi sbrigare in meno no e anche alcune parti diciamo che sono state non abbozzate però più semplicistiche proprio perché non c'era abbastanza tempo quindi li capisco davvero su questa cosa sulla tempistica ci siamo un po' ricreduti ecco su questo sì ma poi tanta carne al fuoco con argomentazioni così aggrovigliate salti avanti salti indietro salti a destra cioè era chiaro che la situazione si poteva risolvere solo con un viaggio nel tempo ma non mi aspettavo tutto quel scamotage delle particelle PIM delle tute nuove ma in realtà quella era una cosa che si prevedeva da un po' cioè le teorie principali erano il viaggio nel tempo e o le particelle PIM cioè in combinazione oppure le particelle PIM come qualcosa ci sta io devo dire che vi dicevo ho sofferto molto la parte del recupero gemme perché? perché da una parte avevo quella sensazione di oh mio dio se adesso sbagliano qualcosa mi mandano proprio a buttare tutta la trama dei film precedenti cosa che per esempio è successo con l'ultimo libro se vogliamo chiamarlo così di Harry Potter per esempio che la gira a tempo ha un po' incasinato le trame precedenti perché uno dopo chiede ma se allora avevano questa possibilità perché? quindi io avevo molta paura di questo quindi le ho vissute un po' in tensione devo dire che comunque secondo me avevano senso quindi si chiudevano bene però comunque erano molto lunghe e lo split di team lo sappiamo se voi siete giocatori di GDR sappiamo tutti che quando i party si splittano e uno va da una parte uno va dall'altra il tempo si dilata ad oltranza e questa è una cosa che io per esempio l'ho patita non che sia stata male però diciamo che non vedevo l'ora che diciamo le cose si sistemassero Avengers Uniti no? si Avengers Assemble ma poi c'è stato anche un momento dove uno degli Avengers non vi dico chi ha proposto un piano alla Wolverine cioè torniamo indietro nel tempo in realtà non sono nato ecco allora a proposito di questo vorrei dirvi che anche in psicologia credo si chiama il dilemma di Hitler una roba del genere cioè se voi trovaste Hitler bambino lo uccidereste ed è uno di quei dilemmi etici morali che dovrebbero far riflettere sul fatto che nonostante sappiate come vada a finire la sua vita voi state comunque uccidendo un innocente anzitempo perché fino nel momento in cui è nella culla è un innocente e a tal proposito All New All Different Marvel credo nella testata degli Avengers c'era proprio la storia di Visione e degli Avengers che andavano a cercare di uccidere Kang nella culla quindi mi ha ricordato un sacco questa cosa senza contare che c'erano secondo me molti riferimenti fumettistici ma quasi tutti penso tutti i grandi cattivoni della Marvel nei fumetti tipo ti parlo di Kang Apocalisse hanno tutti vissuto questa fase dove gli eroi tornano indietro nel tempo e cercano di ucciderli quando sono bambini Sì, diciamo che la tematica di andiamo indietro nel tempo io l'ho vissuta male ma più che altro nonostante fosse necessaria perché è un casino cioè è veramente un casino sbaglio un dettaglio c'è da buttare via tutto e quindi io l'ho vissuta un po' così è stato interessante che abbiano introdotto questa cosa è stato interessante che per esempio il Thor nonostante diciamo il fatto che sia molto comico si avvicini un po' più a quello che era nella testata fumettistica quello con l'ascia per esempio con l'ascia e il barbone lungo esatto me lo ricordava un po' di più ci sono stati dei riferimenti fumettistici che adesso sono le 4 di mattina quindi anche ricordarsi tutti diventerebbe difficile però questa cosa del dilemma mi è piaciuta veramente tanto perché effettivamente parlando perché è la domandona cioè se prima ci chiedevamo se Thanos avesse o meno ragione in Infinity War e abbiamo sentenziato io e lui che non è che ha ragione o torto è che è pazzo cioè la volontà di far qualcosa è quella che anima l'eroe quindi da quel punto di vista Thanos potrebbe forse essere considerato un eroe ma essendo pazzo con la sanità mentale sbagliata esatto quindi non è il problema del fatto che lui vuole fare qualcosa è il fatto che alla base c'è la pazzia quindi la pazzia non è un buon motore di azione infatti gli ha suggerito un sistema che oddio mi è dispiaciuto che in questo film a un certo punto lui abbia detto a sto punto io cancello tutto e rifaccio ma come Thanos la tua pietà è andata tutta via esatto anche quando dice io distruggerò la terra e assoporerò ogni singolo momento perché è una cosa personale cioè lì c'è stato uno slittamento del personaggio che va bene forse però c'è da ricordarsi che in quel Thanos è molto precedente rispetto cioè dovrebbe essere precedente rispetto a quello che effettivamente ha il guanto però c'è da dire che non lo so sembrava molto diverso come impostazione a me non è piaciuto troppo questa cosa qua che è una sottigliezza per carità di dio non è che questa cosa mi ha fatto bocciare il film anzi perché soprattutto la battaglia finale è bellissima però però si nota sì c'è un'altra cosa invece qua la domandona è uccidereste Thanos nella culla secondo me la risposta che una brava persona dovrebbe dirsi è no perché è un innocente e una persona pratica direbbe sì perché salvo delle vite qui si vede la difficoltà dell'eroe nel prendere una una decisione perché da una parte c'è il la ragione comune cioè il fatto che non muoia della gente e dall'altra c'è il fatto che comunque rimane un bambino e essendoci altre vie è giusto che si percorrano le altre vie non si vada verso questa quindi per noi diciamo la risposta a questo dilemma è questa no non si uccide da bambino perché è un bambino e si diventerebbe a nostra volta dei mostri quindi no anche perché avrebbe meno tutto il percorso di studi che io sto facendo che stai facendo anche tu se noi uccidessimo i bambini sì sì esatto esatto noi dovremmo formare i bambini non ucciderli ma fondamentalmente a livello etico è una di quelle domande come quella dei binari se ci sono binari c'è una persona e il treno sta andando contro quella persona però puoi shiftare il binario e ce ne sono tre o quattro quale scegli di uccidere una persona singola o tre sono quei dilemmi etici che girano e secondo me è stato veramente intelligente metterlo dentro perché ha fatto riflettere tanto quanto la problematica delle risorse perché prima in Infinity War vedevamo quella la problematica delle risorse qua invece vediamo tanti aspetti dell'essere eroe secondo me questo va sottolineato vediamo l'eroe fallito tra virgolette Thor perché alla fine è quello vediamo chi non gli rimane niente cioè chi ha necessità di essere eroe perché la vedova chi deve rinunciare a essere eroe come per esempio Scott e Clint e poi chi non può rinunciare a essere eroe anche volendolo fare che è Iron Man fondamentalmente quindi Tony e anche tipo Cap che si vede sempre avere quell'occhio di ottimismo e di voglia di fare anche gli altri sono tutti quelli che ricercano un po' l'appartenenza loro rivolgono indietro quella che hanno perso ad esempio Rocket quello che sottolinea la cosa cioè lui aveva nei guardiani aveva trovato una famiglia e lui rivolgeva il senso di appartenenza rivolgeva la sua famiglia sì effettivamente anche Nebula per esempio che a me mi è sempre stata qua tantissimo qua mi è piaciuta diciamolo piano però questo film non diciamolo forte perché diranno che ci hanno sostituiti però in questo film a noi è piaciuta per esempio allora abbiamo visto molti applausi in sala cosa che noi non è messo sinceramente da fastidio ok io comprendo nel senso capisco perché la gente abbia applaudito il fatto è che ve ne passo sei dieci il ventesimo secondo me se lo riesco a sentire cosa dicono ormai perché state solo applaudendo e volevo sottolineare così malignamente poi andiamo avanti sto scherzando però neanche troppo che hanno applaudito per qualsiasi cosa ma quando Steve ha dato lo scudo a Falcon non ha applaudito nessuno e infatti ho visto delle facce sconvolte vi do una mia interpretazione personale poi direi che possiamo anche chiudere perché abbiamo parlato tanto la mia interpretazione personale è questa secondo me io amo Sebastian Stan tantissimo però secondo me non era più adatto per fare quel ruolo nel senso che lo vedevo molto magrino lo vedevo anche lasciato abbastanza ai margini rispetto a Falcon che forse era più in character nonostante io ami più il sudato d'inverno a me Falcon notoriamente si sa che non è un personaggio che mi piace molto a livello dell'MCU e anche fumettistico non ci vado troppo d'accordo però io comprendo la loro scelta di averlo dato a Falcon e non a Baki mi dispiace perché io avrei preferito Baki la sua faccia è stata impagabile in quel momento lì perché è il suo dilemma cioè tu sceglieresti Baki o Falcon è il suo dilemma io avrei io sceglierai Baki però alla luce di come ho visto l'attore in effetti che io amo tantissimo vi ripeto io lo amo tantissimo ma no e devo dire che anche quando ho visto Loki che andava via col Tesseract mi sono sentita male dicendo no vi prego che lavoro stiamo andando a fare qua perché era meglio chiudere e non si sa e quindi noi avevamo pensato che si introducessero le dinamiche del multiverso però nel fatto che Steve è nella stessa dimensione ci pare che sì ci siano un'altra dimensione perché le gemme le hanno prese poi dal passato si poteva creare però in fondo abbiano forse hanno tamponato esatto non lo so ragazzi questi sono i nostri pareri alle 4 e mezza perché sì sono le 4 e mezza ormai di notte io ormai vedo il monitor che è a forma di cuscino sì e io mi sento un po' una talpa quindi speriamo di diciamo essere stati esaustivi nel dirvi quali sono state le nostre i nostri punti di vista a riguardo a Endgame che ci ha lasciato comunque con un senso di malinconia perché effettivamente vi dicevamo è una fine quindi fateci sapere cosa ne pensate in maniera educata e civile nei commenti mi raccomando mi sembra ieri che era uscito il primo avviso è vero mi sembra ieri che era uscito il primo avviso le riguarderemo con i nostri figli mi sa che sia l'unica perché è già momento dei figli è già ora no però io penso che le riguarderò con i figli e qui farò finta che sia la prima volta con loro e niente ragazzi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti siamo sempre pronti a dialogare con voi saranno giornate un po' piene immagino per visto come sono andati gli altri video abbiamo abbastanza commenti cercheremo di rispondere a tutti vi prego siete educati perché l'ultima volta è stato un incubo se no si miete qua si noi vorremmo evitare di bannare e di dover litigare perché come avete visto non siamo particolarmente pro o contro le teorie ci sta di parlare di teorie ci sta che vi rispondiate anche tra di voi nei commenti non c'è problema parliamo volentieri con voi di come avete pensato questo film come è stato effettivamente insomma se siete rimasti contenti volentierissimo però calma mi raccomando perché perché davvero noi arriviamo alla fine del percorso con Endgame e dobbiamo dirvi che è stato veramente cioè io recenserò ancora Marvel però intendo dire che è stato molto difficile per noi avere a che fare col fandom Marvel perché siamo stati attaccati veramente tanto nonostante ciao sono di Marvel l'umore del Bifrost cioè si dovrebbe capire che io sia Marvel e di Siliamo molto quindi però siamo stati abbastanza sì vabbè lasciamo stare che dopo mi dicono che non li ho letti no no che sono finte è un fondale sì sì è chiaramente è un dipinto lei ha frescato su una parete e quindi abbiamo evitato di parlare di Capitan Marvel perché c'è veramente poco da dire però vi vi proponiamo a questo punto di parlarcene voi nei commenti facendoci sapere cosa ne pensate perché purtroppo noi abbiamo il giudizio un po' in sospeso da una parte ci piace dall'altra noi dall'altra è il personaggio OP sì da una parte è troppo OP dall'altra però non è male quindi fateci sapere nei commenti mi raccomando lasciate like al video e condividetelo affinché arrivi a più persone possibile ma mi raccomando quando vi scrivete cliccate la campanellina perché già YouTube non manda quasi niente di notifiche quindi almeno così rimanete aggiornati inoltre c'è un rituale scaramantico che dice che se cliccate la campanellina quando vi iscrivete al canale del Bifrost non avrete dei rompicoglioni in sala come è capitato a noi non possiamo promettervelo però però aiuta è come bruciare la salvia tutti i nostri social sono in descrizione compresa le nostre due pagine Instagram una è ge-ladylocki93 e domani vedrete meglio i gadget caricare una foto e l'altra è Giulia R official page che è la mia è legata più ai libri però ogni tanto recensiamo anche fumetti il nostro gruppo telegram dove potete parlare con noi insomma ci sono tutti i nostri social in descrizione anche la pagina il Bifrost e il gruppo Xnerd niente ragazzi direi che a questo punto andiamo a dormire perché siamo devastati e ci vediamo al prossimo video da Lady Loki e Nightcrawler è tutto alla prossima ciao bye gente ciao